Italia Viva ha sciolto le riserve, parliamo delle amministrative 2024, mancava all'appello il partito di Renzi, che cosa avete deciso e chi è il vostro candidato? Bene, sì, Italia Viva proprio stamane ha deciso di appoggiare convintamente Daniele Botti, che ha deciso anche lui di candidarsi come civico alla guida della città. Daniele Botti è una scelta condivisa anche con il nazionale, parlerà domenica sul palco della Leopolda, proprio prima di Renzi. Italia Viva mancava un po' ancora all'appello, non aveva ancora un candidato? No, ancora no, però abbiamo visto in Daniele Botti che nasce come forza civica una risposta efficace ai nostri bisogni, a quello che chiediamo, a quello che i nostri elettori chiedono e quindi abbiamo voluto sostenerlo senza riserve. Italia Viva Ferrara, non lo nascondo, era preparata anche a non correre, proprio perché non si riconosce negli attuali candidati. Quello che ci ha convinto di Daniele sono la sua provenienza e soprattutto i suoi propositi. Daniele parla di temi che sono cari ad Italia Viva, quindi parla di rilancio economico, parla di famiglia, temi di cui noi abbiamo sempre trattato. Che poi sono un po' i temi di cui parlano un po' anche gli altri partiti. Ecco, sì, gli altri partiti ne parlano su un aspetto leggermente diverso. Noi credo che Italia Viva si sia sempre caratterizzata per gli approfondimenti che ha saputo sempre portare agli argomenti. È chiaro che noi riteniamo, il nostro caro di Bari, riteniamo che la nostra provincia abbia assolutamente bisogno di un rilancio economico ed industriale e crediamo che ovviamente gli altri candidati non siano in grado di dare le stesse risposte. Per gli elettori di Italia Viva magari un po' il rimpianto del terzo polo con azione. Sì, il terzo polo è stato un dispiacere vederlo naufragare, però noi a Ferrara sul locale ci abbiamo sempre provato a portare avanti e a perseguire questo scopo. Andava assolutamente capitalizzato il successo che si era ottenuto alle politiche nazionali e abbiamo voluto muoverci in questo senso. Con azione purtroppo non è stato possibile perché hanno fatto una scelta di campo molto chiara e ci stupisce perché va in una direzione molto estrema, addirittura appoggiando un candidato 5 Stelle. Ci chiediamo effettivamente se i loro elettori condividano questa scelta e siamo sicuri che a Ferrara ci sia un bacino che chiede una forza riformista in campo e noi ci siamo per loro.